Ah, ma quanto mi fanno aspettare! Eppure a quest'ora l'avrebbero già dovuto leggere il mio copione. Parla di una storia incredibile con esiti eclatanti. Ora vedrete. Buono, buono. Eppure a quest'ora dovrebbero già essere qui. Mi sto aspettando da un sacco. Se non arrivano, vi faccio vedere chi è giù, scheletto. Pensi che stavolta scenderebbe a compromessi? No, perché io con quel uomo o tutta essa non mi fido giammai. Buono, 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 buono. Forse dovresti imparare a parlare. E ricorda cosa è successo l'ultima volta. Non è neanche colpa mia se ogni volta io e lui litighiamo. E questa volta noi literemo nella casa. Ma fa fare tutto a te. Tu sei uno e più del diavolo. Non condivido il tuo modo di ralentare la carrozza, però va bene. Se usi questi mortali così violenti solo per fermare la carrozza, non voglio pensare cosa fai quando fai sul serio. Buono, 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 buono. Eccoci qua, vai e torna a vincitore. Buono, buono, buono. Sembra quasi un cane. Ah, finalmente. Cosa? Eh? Cosa è sta roba? Ah, soldi. Mi stai corrompendo. Vabbè, grazie. Intanto li metto qui. Bua, bua, bua. Ma non penso proprio. Te lo dico, mi stai simpatico, ma vedi, io faccio fuori sia a te che il fantasmino. Ok? Eh? Ti è chiaro? Non sono uno con cui puoi scherzare. Io ho spina dorsale. So, ma non piangere, la mummia che piange, dove sei mai visto? So, sei uomo. E meno cerca di ricordare com'è essere uomo. Eh? Eh? E ma che fai? Hai paura? No. Va bene, ho capito. Ora ti sistemo. Ecco fatto. E queste? Ma dove ne sono uscite? No, no. No, qua non ci siamo proprio. Mi sa tanto che vi farò fuori tutte e due. Ho fatto bene a nascondermi qui. Quello scheletro potrebbe trovarmi. Oh mio Dio, mi sto facendo tutto fuori. Forse è meglio che scappi. Ne manca solo uno. Eh? O quello che ci stai a sentire, mi sto facendo il mio pioppo. E' meglio. E' meglio. E' meglio. E' meglio. Ris perso. cosa penso della tua sceneggiatura? Beh, mi fa schifo. Non ha senso. In primo luogo gli scheletri non parlano e non usano fucile. Ci sono zombie, fantasmi e mummie. Veramente zombie non ce ne sono, eh? Zitto, non rispecchia la realtà e basta. Allora levati dalle scato. E questo chi è? Wow, che è entrato. Questo sì che ne ha spina d'orsale. Dovrei aggiungere al mio figlio. Forse non era necessario ucciderli, ma va bene lo stesso. D'altro canto non so quanto potessero essere utili. Bravo, ben fatto, uomo sconosciuto. Vedo che anche tu ti sei fatto le ossa come me. Bravo, bravo.